Si fa sempre più rovente all'atmosfera fra i lavoratori assunti durante il Covid in Sicilia e il Governo. In tanti rivendicano la stabilizzazione così come è avvenuto per i sanitari. Migliaia di professionisti, amministrative e tecnici reclutati al pari di medici, infermieri e operatori nelle diverse aziende sanitarie durante l'emergenza Covid rischiano il posto di lavoro e la possibilità di poter continuare a garantire servizi essenziali d'assistenza. Inizia così la nota del coordinamento regionale Comitato Lavoratori Emergenza Covid-19 della Sicilia e dei nuovi coordinamenti provinciali. I lavoratori assunti sono circa 2.500 in tutta l'isola. Il personale sanitario e sociosanitario, contrariamente al personale amministrativo, è stato inserito in un chiaro percorso normativo che li tutela e che estende al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza dell'arco temporale in cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono assumerli a tempo indeterminato, continua la nota. Riconosciamo l'impegno preso dal Governo nazionale che mira a trovare una definitiva soluzione per la nostra categoria all'interno del mille proroghe, come dichiarato da autorevoli esponenti del partito di maggioranza. Siamo amareggiati, delusi e ci sentiamo traditi perché le tante promesse e rassicurazioni fino a questo momento sono state malamente disattese da chi può tutelare noi e un sistema sanitario regionale che senza di noi subirebbe un ulteriore duro colpo che la sanità non può permettersi. Chiediamo oggi le stesse forme di tutela garantite al personale medico-infermieristico e nell'attesa che queste possano attuarsi una congrua proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2022. Annunciamo che, ove la situazione non dovesse trovare immediata soluzione giuridica e politica, conclude il comunicato, daremo vita a forme di protesta oltranza nelle sedi ritenute più opportune, al fine di giungere a una risoluzione concreta.